Ciao a tutti i campanari, oggi volevo fare una chiesa in Minecraft e questa è la chiesa di Santa Maria di Portosalvo di Torre del Greco, città del mio amico Campanella Mattia 2012, ho detto anche il napoletano. Allora per cominciare questa è la cupola e la croce e poi tengo il campanile, questo è il campanile, costituente proprio tre campane. Adesso mi sposto, ecco mi sono all'interno del campanile, la campana piccola che è una lampada, la campana maggiore e la campana mezzana. Poi scendiamo, ovviamente io scendo dalla cupola perché non voglio scherzi e scendo da qui, ecco. E poi vado, adesso vi faccio vedere, questa è la facciata della chiesa, un attimo, questa è la facciata della chiesa e il campanile. Spero vi piaccia questa chiesa in Minecraft, vi do un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!